Erano le 15.40 quando in via Sangaetano a Castelcucco un'auto condotta da un giovane invaso la corsia opposta dove in quel momento sopraggiungeva un furgone. Lo scontro è stato inevitabile. Ad avere la peggio il conducente dell'auto forse colpito da un malore. Sul posto è sopraggiunta l'ambulanza di Pede Montana Emergenza intervenuta con l'elicottero del Suem che è successivamente rientrato alla base. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Montebelluna dove si trova in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi della polizia locale dell'Unione Montana del Grappa che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.